Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, eccoci ad una nuova lettura di Così parlò Zaratustra di Nice. Questa sera leggerò, commenterò con voi e per voi il passaggio intitolato Di Grandi Eventi. Vi è un'isola nel mare non lontano dalle isole beate di Zaratustra sulla quale fuma senza sosto un vulcano di cui il popolo, ma soprattutto le vecchie donnette del popolo, dicono che sia stato posto come un macigno davanti alla porta degli inferi. Attraverso il vulcano appunto scenderebbe lo stretto sentiero che accompagna all'entrata degli inferi. Al tempo in cui Zaratustra viveva sulle isole beate, accadde che una nave gettasse l'ancora presso l'isola su cui si trova la montagna fumante. E gli uomini sbarcarono a terra per dare la caccia ai conigli. Verso mezzogiorno però, quando il capitano e i suoi compagni furono di nuovo insieme, essi videro a un tratto nell'aria un uomo che veniva verso di loro e una voce diceva chiaro, è l'ora, i tempi sono maturi, ma appena la figura fu vicinissima a loro essa volò, passando oltre rapida come un'ombra in direzione del vulcano. Con grande sgomento si accorsero che era Zaratustra. Tutti loro infatti, eccetto il capitano, lo avevano già visto e gli volevano bene, come sa voler bene il popolo, con amore e timore, in parti uguali. Ma guarda un po', disse il vecchio timoniere, ecco Zaratustra che va all'inferno. Nello stesso periodo in cui questi marinai avevano preso terra all'isola del fuoco, si sparse la voce che Zaratustra fosse scomparso e chi faceva domande, i suoi amici raccontavano che egli se n'era andato di notte per nave senza dire dove fosse diretto. Si diffuse così un senso di inquietudine e dopo tre anni, per di più, si aggiunse all'inquietudine il racconto dei marinai e ormai tutta la gente diceva che il diavolo si era preso a Zaratustra. I suoi discepoli, è vero, ridevano di queste dicerie e uno di loro disse perfino, io credo piuttosto che Zaratustra si sia preso il diavolo, ma in fondo all'animo erano tutti pieni di apprensione e nostalgia. Così la loro gioia fu grande quando al quinto giorno Zaratustra ricomparve fra loro. E questo è il racconto del colloquio di Zaratustra col cane di fuoco. La terra gli disse una pelle e questa pelle ha delle malattie, una di queste malattie per esempio si chiama uomo e un'altra di queste malattie si chiama cane di fuoco, a proposito del quale gli uomini hanno raccontato e hanno permesso che si raccontassero molte bugie. Per cercare di penetrare questo mistero mi sono recato al di là del mare e ho visto la verità nuda, davvero, dalla testa ai piedi. Quanto al cane di fuoco ora so come stanno le cose, così pure tutti quei diavoli reietti e decaduti di cui non solo le vecchie donnette hanno paura. Vieni fuori dal tuo baratro cane di fuoco, vieni fuori gridai e mostro di quanto è profondo, da dove viene ciò che metti sbuffando. Tu bevi abbondantemente dal mare, questo rivela la tua eloquenza che sa troppo di sale. In verità per essere un cane degli abissi prendi i tuoi alimenti troppo in superficie. Tutto al più posso ritenerti il ventriloco della terra e sempre quando ho sentito parlare quei demoni reietti e decaduti li ho trovati uguali a te. Salati, bugiardi e piatti. Siete bravi a berciare, a spargere l'oscurità, cinere. Siete i migliori sbruffoni, avete imparato quanto basta all'arte di far bollire caldissimo il fango. Dove siete voi ad esserci sempre vicino del fango e molte cose flaccide, vacue, ristrette, le quali aspirano a libertà, libertà. Berciate voi tutti col massimo piacere, ma io ho disimparato la fede nei grandi eventi, quando sono avvolti da molto fragore e fumo. E credi pure, amico mio, che fai un baccano infernale. Gli eventi più grandi non sono le nostre ore più rumorose, ma quelle più quiete. Non intorno a chi inventa nuovi rumori, intorno a chi inventa nuovi valori. Gira il mondo, impercettibile, esso gira. E confessalo pure. Era sempre accaduto ben poco quando il tuo rumore e il tuo fumo si disperdevano. Cosa importa? Che una città si sia mummificata e una statua stia nel fango. E questo, dico, inoltre a coloro che rovesciano le statue. Hai più grandi folie gettare sale in mare e statua nel fango. Nel fango del vostro disprezzo giacque la terra, ma secondo la sua legge proprio dal disprezzo le possono ricrescere vita e vivente bellezza. Allora, commovenze divine si alza seducente nella sofferenza, davvero. Dirà anche grazie di essere stata rovesciata a voi che rovesciate. Ma ai re alle chiese, a tutto ciò che è debole, per età avanzato virtù, io do questo consiglio. Lasciatevi rovesciare per ritornare in vita e perché a voi torni la virtù. Così parlai al cane di fuoco, esso mi interruppe ringhiando e domando chissà, chiesa. Che cos'è mai la chiesa? Chiesa, risposi io, è una specie di stato e anzi la specie più bugiarda. Ma stai zitto, cane ipocrita. Tu conosci meglio di tutti la tua specie. Proprio come te lo stato è cane ipocrita. Contesso ama parlare in maniera fumosa e con fragore per far credere come te di parlare dal ventre delle cose. Vuole essere in assoluto la bestia più importante sulla terra, lo stato. Egli si crede anche. Appena ebbi detto queste cose il cane di fuoco si agitò come un pazzo, pazzo di invidia. Come strillò la bestia più importante sulla terra e anche gli si crede. E dalle fauci gli uscivano un tal vapore, versi mostruosi che pensai stesse soffocando di rabbia e di invidia. Infine divenne più quieto e il suo ansimare si allentò. Appena fu in silenzio io dissi ridendo ti arrabbi cane di fuoco. Allora ho ragione su di te e affinché io abbia ancora ragione ascolta quello che ti dirò di un altro cane di fuoco il quale parla realmente dal cuore della terra. Ora esala il suo respiro e pioggia d'oro così per lui vuole il suo cuore. Che cosa gli importa della cenra del fumo e della melma ribollente? Risa come nuvole variopinte, svolazzano sulla sua bocca. Egli è pieno di livore contro il gorgoglio e il vomito e le coliche dei tuoi visceri. Ma allora il riso egli li prende dal cuore della terra perché sappio il cuore della terra è oro. Udito questo discorso il cane di fuoco non poté più rimanere ad ascoltarmi. Vergognoso con la coda tra le gambe mise un flebile bau e strisciò fin giù nella sua tana. Così raccontò Zaratustra e i suoi discepoli però lo ascoltarono appena. Tanto grande era il loro desiderio di raccontargli dei marinai, dei conigli dell'uomo volante. Che devo pensare tutto ciò disse Zaratustra. Sono forse un fantasma? Sarà stata la mia ombra? Avete già sentito dire qualcosa del viandante alla sua ombra? Questo è comunque sicuro. Bisogna che la tenga più sulla corda la mia ombra o mi rovinerà la reputazione. E Zaratustra ancora una volta scosse la testa stupefatto che devo pensare disse di nuovo perché il fantasma gridava e l'ora il tempo è maturo. Per cosa? È maturo il tempo? Così parlò. Zaratustra. Nice si conferma maestro del sospetto, Nice si conferma decostruttore dei mondi, si conferma demistificatore, trasvalutatore dei valori, critico assoluto dei pilastri della cultura occidentale. si dimostra ancora una volta un rovesciatore di equilibri, uno smascheratore delle favole. I grandi eventi. I grandi eventi, le cose grandiose, lo Stato, la Chiesa, i loro racconti, i grandi eventi. Ciò che fa fragore, che riecheggia, è falso. E nelle piccole cose, nella quiete che vi sta, vi risiede poi la verità, la genuinità, la profondità. Ancora una volta qua Nice va compreso e va appunto non assolutamente appiattito sull'edonismo, sul dionisiaco veramente di godimento. Ancora una volta Nice ci ribadisce con forza che nella solitudine, nel cammino, nella marcia, nell'abisso, nella semplicità delle piccole cose, sta la verità, sta la profondità. E in scena Nice un dialogo tra Zarathustra e un cane di fuoco che esce dagli inferi. Zarathustra che si rapporta con gli inferi come Odisseo, come Nea presso i campi Elisi, come Pitagora che scende gli inferi e risale. Zarathustra al cospetto del demonio, del diavolo, dell'altra faccia della medaglia, tanto anche tu cane rabbioso di fuoco conosci lo stato e la chiesa, li conosci, fai finta di non sapere ma li conosci, sono l'altra faccia della tua stessa medaglia. Lo stato e la chiesa, i grandi eventi, cosa sono? Sono l'inganno, sono il disprezzo. Disprezzo, nel disprezzare ciò che disprezza, nel disprezzare ciò che è grande evento, nel disprezzare ciò che si fa monumento, statua, nel disprezzare ciò che si pone come la verità. Allora risiede la possibilità di far nascere la bellezza, il dissenso. E' quasi un inizio anarchico in questo passaggio, quasi un inizio anarchico. Bisogna gettare sale in mare e statue nel fango, è una grande follia. Gettare sale in mare e statue nel fango, ma bisogna farlo. Movenze divine si alza, bisogna muoversi divinamente e rovesciare. Bisogna rovesciare, rovesciare. Questo è proprio il verbo di chi sa mettere sotto sopra, di chi sa rovesciare. L'ipocrisia. E tu sei un cane ipocrita, come ipocrita lo Stato. Che si crede il Dio sulla terra, si autocrede. La bestia più importante, si crede lo Stato. Gridò la bestia, sì, 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 sì. E mentre la bestia grida gli escono fumi, va bene, versi mostruosi. Ma è nel silenzio che sta la ragione. Silenzio, silenzio. Ti arrabbi, ma allora vedi che se ti arrabbi il cane è perché ho ragione. Perché ho ragione. L'oro è riso e gli prende dal cuore. Oro è riso, ok? Prende dal cuore. Questo è la libertà. L'oro è riso, il rovesciamento dunque degli equilibri. E affinché io abbia ancora ragione, ascolta quello che ti darò, ti dirò cane di fuoco. Ora esala il suo respiro e pioggia. Così per lui vuole il suo cuore. Bellissimo passaggio. Cosa gli importa della cedere? Il cane di fuoco non poté più rimanere ad ascoltarmi perché Zarathustra lo ha demolito. Il cane fa solo più bau bau e si ripiega in se stesso, ritorna nella cuccia. Il cane di fuoco va bene, non fa più paura, non fa più paura. Arrivano i fantasmi, i fantasmi, ombre o fantasmi? I fantasmi, i fantasmi che interrogano Zarathustra. Zarathustra con la sua ombra è lui che fa paura ai fantasmi. E il fantasmo gli chiede tempo è maturo. Il fantasma è un paurito e chiede a Zarathustra no, se il tempo è maturo. È maturo per cosa? Lo sapete per cosa è maturo. È maturo per l'Ubermensch. È maturo per l'oltre uomo. È maturo per l'oltre uomo. Non è Zarathustra che si fa prendere dal diavolo, ma è Zarathustra che prende il diavolo. Perché il neoprofeta, il profeta dell'Ubermensch, il profeta del disincanto, il profeta che fa cadere il velo di Maia di Schopenhauer, il profeta che si erge poi sopra l'abisso, diventando volontà di potenza, il profeta dell'Ubermensch, caccia il diavolo, caccia il diavolo, il cane di fuoco. E dopo, e dopo cinque giorni è ritornato. Quel mito di Er, di Platone, Er, soldato morto in battaglia, ritorna e racconta cosa ha visto nell'aldilà. E ha visto presso la parca, la chesi, che il futuro dipende dall'uomo, perché suerte il profeta stile. E così Zarathustra ritorna e parlerà ai marinai, parlerà agli astanti di quanto, di quanto gli ha detto il cane, o meglio, di quanto lui ha detto al cane di fuoco, a Cerbero, al cane a due teste, non c'è Caronte che tenga, non c'è Stige che tenga, non c'è il fiume che tenga. E Zarathustra, il profeta dell'oltre uomo, il profeta che va agli inferi e ritorna. E ritorna, ci dice che tra i grandi eventi, delle religioni, della politica, c'è la menzogna, la chiesa a mente, ha bisogno di grandi eventi, grandi opere, grandi proclami, per nascondere il vuoto, la mediocrità, la paura, per nascondere il nulla che tu ti vuoi. E così lo Stato mostra i muscoli, i suoi grandi eventi, perché? Perché è ipocrita, perché lo Stato si propone come un Dio, si propone come guida, ma guida lo Stato non è. Lo Stato diventa uno Stato padrone, uno Stato che ci vuole appunto più che mai sudditi. Ecco qua, ancora una volta, un niche anticipatore di inquietudini del passato, le chiese, dello Stato, e il presente del futuro. Dietro i grandi eventi, che sia Expo, che sia la Tav, che sia il calcio, Olimpiadi, che sia i grandi proclami, le TV, del Super Bowl, di tutti i grandi eventi, si cela in realtà l'ipocrisia, la menzogna e la falsità. I grandi eventi vanno rovesciati, i grandi eventi vanno decostruiti. Così parlò Zaratustra.